Il brano che andiamo a eseguire adesso si chiama Q30 Gardini, siamo praticamente 40 anni fa, nel 1970 quando è chiamato anche Tarantella dei baraccati, perché praticamente Q30 Gardini era quello che potevano dare al momento, e si inventarono appunto degli stornelli e dei balli per scaldarsi, perché la polizia non concedeva neanche di accendere i falò, per cui penso che sia storia recente. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti